Ti senti solo? Detesti dover prendere decisioni? Preferisci parlare piuttosto che agire? Ecco la soluzione! Organizza una riunione! Potrai vedere altra gente, dormire in pace, scaricare le responsabilità sugli altri, sentirti importante e impressionare i colleghi. E tutto? È l'orario di lavoro! Quindi organizza una riunione! Riunioni! La migliore alternativa al lavoro! Aham! Io l'ho fatto! E tu cosa aspetti? Grazie!